Un saluto a tutti da Jack, Leon e Max e da Andre, Drake, Lee, St. John e Sir Nathan Drake, come volete voi, eccoci qua, lui sarà il leader di questo incredibile colpo e sono emozionato e onorato di poter partecipare con lui, guardate attentamente cosa viene scelto adesso, veicolo di approccio Longfin, molo principale infiltrazione e ingresso canale di scolo, punto di fuga il molo Nord e ora giorno, sed di armi come potete vedere, tutto quello che serve, e c'è la collana di rubini che vale 1.100.000 e obiettivi extra, tanto bell'oro ragazzi, tanto bell'oro, tanta roba che si può ottenere, ok, mi sono messo pronto, lui si mette pronto e si va in due, non c'è bisogno di 3 miliardi di persone, ok, no bellissimo la mascherina di Big Ness, sembra giusto, sembra giusto però io vado di, comunque cosa va bene, basta che partiamo e va tutto bene, allora, non è una missione difficile, perché io pericco, non è una missione difficile, se sapete cosa fare, se la giocate stealth, se seguite queste indicazioni, servirà riuscirete a farla senza troppe difficoltà, io stando indietro, stando indietro, riesco a mostrare benissimo, come vedete il mio personaggio al labiale parla, eccoci qua, eccoci qua, ma è complesso di rubio, guardate si parte da qua, ed è, al momento non ci sono pericoli, non stiamo rischiando niente, non ci sono problemi, come vedete, vi mostro la mappa, siamo in questa zona qua, come vedete, molto lontani, molto molto lontani e ho anche un po' di roba da fare ok, allora, vedete, eccoci qua si prende l'equipaggiamento, vedete questo qua un'equipaggiamento è un'arrampicata, giustamente, senza quello, come si fa, poi andiamo, torniamo alla marca benissimo, ricordo che per l'elite è da fare in 15 minuti, è da fare in 15 minuti il suo colpo bisogna farlo tutto dentro con gli sminuti, non bisogna farsi beccare, non bisogna farsi ammazzare, insomma, tutto perfetto, eh, se volete più soldi, tutto perfetto eccoci qua la partenza è lenta, ma non è quello che conta, non è quello che conta qui si fanno i gran soldi, quindi potete ripetere questa missione, tutte le volte che volete pagando, ma si può ripetere e facendo tutte le volte le preparazioni ma si può fare eccoci qua ah, il complesso di Errubio è una bella villetta, ma non siamo ancora vicini ci vuole un po', ci vuole un po' e spero che sia il più peccato per lui, eh perfetto siamo vicini al punto di infiltrazione vedete, ho un livello basso, non c'è bisogno di avere un livello pazzesco per sempre fare questa missione non serve una grande abitudine, una grande capacità, perciò potiamo farcela, fidatevi, potete farcela tutti ok, ecco, si va, si va, si va sott'acqua, mi sono incastrato, benissimo ecco, ed è importante che indossate la mascherina se non indossate la mascherina e succedono brutte cose diciamola così aspetta che il leader tagli la grata, certamente eccolo qua qui sotto, qui sotto perfetto, eh qui sotto, come vedete, si va eccolo qua, il cancello lui taglia la grata uno deve tagliare la grata e l'altro potete anche farlo da soli e dire la verità anche se in due è meglio più facile in due aspetta com'è eccoci qua, si va avanti si esplora il canale subacuo e una volta destinazione si va all'ingresso della villa da questo momento inizia la parte difficile fino a qua zero difficoltà zero difficoltà ok, si sale bene questa qui è la porta eccoci qua in questo momento stealth più assoluto mi raccomando mi raccomando un percorso predefinito non fate altro che non venga fatto da Ander in questo momento, guardate spara spara qua colpito il primo tutto quello che viene fatto serve è necessario giù da sta memoria io la sto imparando oh ed eccoci qua anche questo state attenti oh imparare di prima oh si è rialzato ma non è ancora è rimasto giù come vedete siamo qui siamo a un punto si va si va ecco c'era una scheda accesso la prima scheda delle due che ci servono era con quelle guardie lì unite per quello che le ammazzate tutto ciò che si può evitare è evitabile non ammazzate qualunque cosa che capita davanti a voi prendo giusto un po' di oro ok eccoci qua bene bene vedete che la strada è quella ma state attenti queste non possiamo ancora accedere non possiamo ancora accedere c'è dell'oro qua ma non è il momento di entrare ora bisogna aspettare guardate cosa sta facendo sta aspettando esattamente il momento giusto per passare perfetto perfetto e qui e qui vedete ha sparato stiamo molto attenti guardate la strada mi è andata con calma tanto non c'è fretta perché fra un po' arriva la guardia questa qui è la guardia importante da far fuori ma non bisogna farla fuori con la pistola bisogna farla fuori col coltellino guardate si va alle spalle tanto lui è girato di là non se ne accorge vi assicuro che non se ne accorge come se ne accorge si va a far fuori 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 bisogna proprio passare di qua se avete superato questo la parte più difficile è terminata ok ora c'è come vedete la seconda scheda d'accesso perfetto ci siamo la scheda d'accesso l'abbiamo presa ci sono tutte e due tutte e due potete vedere i bellissimi quadri qua ma non andate troppo a esplorare non andate troppo a esplorare che qui è meglio evitare casini so che ci sono tantissime belle cose tanti bei segreti ma non è il momento ragazzi non è il momento di esplorare tanti bei immagini come vedete però non fatelo cioè non è il momento quando fate la missione fatela una volta ma se volete farla perfetta avete 15 minuti quindi non si può perdere tempo si va un po' si va un po' scassinare non è mai preciso preciso avete giocato fallout oblivion allora siete già esperti di grimaldello se non avete giocati imparate per questo gioco ed eccoci qua un'immagine oh l'urlo di munch no non è l'urlo di munch è un alieno grigio che saluta ok gli alieni sono fra noi eccoci qua questo qua tagliare la tela potete anche tagliare la tela a questo punto così quasi no non facciamo non facciamo boiati ok vedete guardate che bello si può fare tante belle cose ok eccoci qua ci siamo ci siamo tanto nel frattempo andiamo giù un po' di bottino ce l'abbiamo già ok si entra si entra si va al cavo sotterraneo bene 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 guardate qui c'è una bellissima collana la collana di rubini bisogna aspettare un attimo e sarà nostra sarà nostra fa pochissimo posso rubarla? eh già aperta? che bello si può rubare tagliare il vetro R2 può tagliare il vetro ok 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 time to focus yes this display case is bulletproof and bulletproof the only way is the plasma cutter one slip but if you lose your finger big slip ok ok si è fatta è fatta posso visto abbiamo rubato hai recuperato l'obiettivo principale ok è fatta è fatta ragazzi è fatta è fatta ora bisogna seguire buon Andre eccoci qua come vedete siamo qui a fare questa cosa di schede accessi andate andate non abbiamo perso tempo ecco stiamo andando perfetto ok si fa in due vedete che serve in due è obbligatorio essere in due questa cosa ok si ruba l'oro l'oro glielo lasciamo lui no no lo piglio io vabbè ok non è importante tanto abbiamo quasi fatto la borsa quasi finita la borsa ok sono al pieno sono al pienone 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 del borsone eccoci qua io non devo più rubare nulla e adesso aiutiamo che anche lui si riempia il buon borsone questo pezzo deve farselo lui un po' di hacking c'era un po' di hacking scusate un po' di grimaldello eccoci qua e si fugge come vedete non c'è nessuno qua sotto nessuno sa che ci siamo da notare il mio personaggio ispirato a Micah Bell ha la panza ha i capelli un po' mossi i baffi sono un po' ridicoli ma se Micah Bell ovviamente ci sta guardate i guadagni guardate i guadagni siamo già a 1.495.000 ed è solo l'inizio è solo l'inizio perfetto non sorprendetevi se invece trovate la collana di rubini trovate altro non è necessario che ci sia tutto quello che vedete qua non vi preoccupate eccoci qua siamo andati avanti e si va via dovremmo farcela tranquillamente ora state attenti a quello che fate non esagerate non fate casini seguite attentamente la missione cosa possiamo fare dai so che non è facile so che non è facile chiederete perché ha il coltellino ma così ok eccoci qua attenzione sto pezzo attenzione attenzione guardate guardia lì guardia lì guardate cosa fa Andre perfetto non ha neanche sparato semplicemente l'ha evitato ok qua c'è di nuovo da far questo vai andate andate tempo di blocco ok perfetto ora lui svaliggerà tutto l'oro che c'è da svaliggiare non andate in giro non andate in giro non andate in giro che potrebbero succedere le camere con brutte sorprese sono tante belle immagini potete vedervele qua non andate in giro per questa struttura mi raccomando potreste essere intracciati dall'esterno eccoci qua mi abbasso vedete lui intanto porta il borsone al massimo e saremo a circa 2 milioni eh quasi visto quasi 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 2 milioni dai è un buon colpo un buon colpo no uscire stando attenti a non farsi beccare ecco di qua di qua come vedete questa strada qua stiamo facendo l'evasione da questo punto state attenti c'è ancora una parte difficile libera confermi il percorso dai ce la facciamo ce la facciamo e ora c'è l'evasione attenzione parte epica ragazzi parte epica guardate i rampini li abbiamo presi così si evade quelli che prendiamo all'inizio quelli che prendiamo all'inizio il rampino dai 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 ancora un po' di tensione ragazzi che non fa mai male un po' di tensione con jack leone max su 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 ed è andre ovviamente è andre eccolo qua dai pensate che ci sono 2 milioni in questo borsone 2 milioni 2 milioni devi nidersi ecco ha sparato a uno che passava non c'è di niente potete farlo tranquillamente ecco qua aspettate di non buttarvi male come me potete farlo ecco qua in questo momento correte pochi pericoli in questo momento correte pochi pericoli ecco non fate la chiatinata che ho fatto io se perdete 2 secondi 2 preziosi secondi ok benissimo dovremmo aver fatto tutti gli obiettivi deliteri non so quanto impieghiamo ma guardando il cronometro siamo ben sotto i 15 minuti è quasi andata guardate attentamente se ne sta andando lascia lì non importa non so molto preciso voi lasciatela e rubio ti sta cercando evita il cono ormai è andata ragazzi è andata siamo a pochi passi dalla fuga fuga da caio pericco è quasi andata su 3 2 1 di più di 1 e vabbè dai finirà 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 pensate a quanti soldi vi farete dopo questo posto ci sono tutti perfetto eh già obiettivo principale gli obiettivi secondari non abbiamo rubato tutti i quadri ma sinceramente abbiamo il borsone pieno abbiamo il borsone pieno e avete visto che abbiamo preso anche la tela la tela mentre lui scassinava abbiamo preso anche la tela iniziale e ne valsa almeno un terzo dell'obiettivo principale ok guardatevi la scena è andata abbiamo finito non sembra vero in pratica si poteva anche fare senza il quadro senza il quadro ecco bottino finale ammazza 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 è tantissimo sfida d'elite ok completare meno 15 attenzione 0 echo infalliti perfetto borsi pieno di bottino si si c'è tutto c'è tutto c'è tutto c'è tutto c'è tutto sfida d'elite completata fantastico fantastico ragazzi è eccezionale sfida d'elite avete visto un colpo riuscito ma lo sapevo che ci riuscivamo e ora godiamoci la sequenza siamo ricchi avete fatto tutto questo avete completato il colpo potete godervi la festa non è difficile ripeto non è difficile sapete cosa fate non è difficile sfida d'elite eccola qua sfida d'elite io oggi mi guadagno tantissimo guadagno tantissimo grazie a Randa che è stato molto generoso solo 12 minuti è qualcosa e vedete oh un colpo d'elite è sempre un colpo d'elite non si è morti non siamo stati beccati ed è andata in meno di 15 minuti tranquillamente è andata è andata eccoci qua che emozione che emozione ragazzi e questo è tutto tanti saluti